partiti è in vantaggio commodo davanti a Grey Caviar Dancer Art Dunaway Invisible Gun Mattings L'Intruso Royal Black dopo 400 metri di corsa è in vantaggio commodo davanti a Grey Caviar Dancer Art Dunaway Invisible Gun Mattings L'Intruso Royal Black All'inizio della curva prosegue in leggero vantaggio commodo davanti a Grey Caviar Rattle Noir Dunaway Dancer Art Invisible Gun Mattings L'Intruso Royal Black poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio commodo davanti a Grey Caviar Rattle Gun e Dancer Art i cavalli entrano in dirittura con l'Intruso con commodo e Grey Caviar in vantaggio davanti a Invisible Gun Rattle Noir Dunaway a centropista passa Grey Caviar davanti a Dunaway commodo Rattle Noir e Invisible Gun in vantaggio Grey Caviar attaccato all'esterno da Dunaway seguono Invisible Gun e sempre in vantaggio Grey Caviar davanti a Dunaway Invisible Gun e Rattle Noir attaccato all'esterno Grazie. Grazie.